Oroscopo del giorno, mercoledì 25 novembre 2020 Ariete Amore Forse oggi non farete attenzione alle piccole cose, anche perché sentirete una certa necessità di andare piano. Se avete intrapreso una nuova conoscenza o una nuova storia d'amore, sarà importante cercare di non affrettare le cose. Lavoro Deciderete di non correre nemmeno con gli impegni professionali. La pazienza aiuta. Toro Amore Occhio a questa giornata, perché sarà veramente fondamentale tenere tutto sotto controllo. Potreste sfociare nell'esagerazione, anche nel rapporto con il partner, e questo potrebbe portare problemi. Sarete convinti che la vostra dolce metà non sia del tutto sincera, ma non è detto che sia vero. Lavoro Dubbi e incertezze vi terranno compagnia per tutto il mercoledì. Mantenere la calma Gemelli Amore Probabilmente vorrete dedicarvi un po' al domani, a maggior ragione se siete impegnati in una relazione stabile. Dovreste cercare di eliminare pensieri ed emozioni negative e concentrarvi invece su ciò che vi rende felici. Lavoro Se avete un obiettivo è arrivato il momento di darsi da fare. Se lavorate con quello che vi piace, sarà più semplice. Cancro Amore Le stelle di oggi vi sosterranno e vi aiuteranno a vivere il mercoledì con equilibrio. Se le cose ultimamente non sono andate troppo bene, potrete pure trovare una buona soluzione. Una giornata in cui non ci dovrebbero essere problemi di coppia. Lavoro Finalmente vi dimenticherete per un attimo delle fatiche e degli impegni spesso stressanti. Più serenità. Leone Se avete un partner potrete contare su una giornata gradevole per le emozioni. I sentimenti saranno al top e potrete godervi la passione di coppia al massimo. Il buon umore di oggi farà tutto il resto. Lavoro Le energie saranno buone e riuscirete ad affrontare la giornata lavorativa nel migliore dei modi. Vergine Amore In questo mercoledì di fine novembre terrete gli occhi aperti perché avrete paura che chi vi sta accanto possa commettere errori. Probabilmente qualcosa tra voi e il vostro partner è cambiato e questo vi riempie la testa di dubbi. Lavoro Potrebbero arrivare delle nuove occasioni da prendere al volo. Bilancia Amore Questa giornata sarà interessante e deciderete di non mettere da parte gli affetti. Per questo motivo opterete per la cura del rapporto, delle esigenze e delle necessità vostre e del partner. L'equilibrio non mancherà di certo. Lavoro Sarete particolarmente determinati e non avrete timore di immergervi nei compiti professionali. Scorpione Amore Un mercoledì in cui guardare dettagli risulterà importante e non potrete farne a meno. In una relazione d'amore proverete ad usare la mente e non solo il cuore per capire se è quello di cui avete effettivamente bisogno. Lavoro Bene le energie per questa giornata. Difficilmente sbaglierete nei vostri impegni di lavoro. Sagittario Amore Questa giornata sarà positiva sul fronte delle emozioni. Il vostro cuore parlerà per voi, quindi sarà fondamentale dare il giusto peso ai sentimenti in un rapporto affettivo. Non dovrete avere paura di esprimere quello che sentite. Lavoro Dovreste essere un po' più istintivi e leggeri. Le idee saranno interessanti. Capricorno Amore Finalmente vi dimenticherete della rabbia, dell'agitazione e lascerete posto ad una giornata più tranquilla. Questo vi aiuterà a mantenere un buon equilibrio di coppia con il partner e alla fine non potrebbe andare meglio. Lavoro Vi dedicherete ai progetti in vista del domani, ma manterrete i piedi incollati per terra. Acquario Acquario Amore Oggi sentirete la necessità di dire tutto quello che vi passa per la mente, senza pensarci e soprattutto senza timori. Questo significa che mostrerete anche i sentimenti alla persona che avete al vostro fianco. Lavoro Le vostre idee e le vostre opinioni avranno bisogno di essere condivise per trovare anche un appoggio in più. Pesci Amore In questa giornata di fine mese nulla passerà inosservato e voi non starete certo a guardare. Sarete i primi a reagire alle situazioni relazionali, anche rispetto alle cose che non funzionano. Non male questo mercoledì di forza. Lavoro Vi impegnerete a dovere e non farete nemmeno troppa fatica. Tutto perfetto per terminare al meglio i propri compiti. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie 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 Grazie